Eccolo Roberto Valenza, in arte Sciago, giovane promessa della canzone italiana, è tornato a casa nella sua conversano dopo dieci mesi di sofferenze ed è pronto a ricominciare, gli amici e i parenti lo accolgono così. Sciago ha vinto la sua battaglia contro un tumore al cervello, è stato operato a Bari e riabilitato a Verona. Ora, anche se un po' acciaccato, ritrova i suoi spazi, la sua famiglia e la sua musica. Ha avuto un momento di grande celebrità quando due anni fa a X Factor ha fatto commuovere Fedez con la sua esibizione. La sua canzone senza nome ha spopolato su YouTube ed è arrivato anche un album, Il Paradiso. Lui, che ha visto l'inferno, non si arrende, i suoi fan esultano e festeggiano. Cosa ammettere ogni sera, come se fosse la prima volta per sempre. Tu, tu, che da quando non sei più tu, 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 trovi conforto nelle canzoni, tu, tu, e chiedi scusa alle emozioni che non vuoi più provare.